Un micidiale 1-2 sul finire del primo tempo permette al Matera di far sua la sfida casalinga del Franco Salerno contro il Siracusa, un successo importante in chiave play-off per la compagine lucana, che risale in classifica e si riporta a ridosso proprio della formazione a retusea, quarta in graduatoria. Parte forte la squadra siciliana al quarto Catania calcia dal limite, deviazione di Golubovic miracolosa e palla che termina sul palo. Il Matera dopo il forte spavento si affaccia dalle parti di D'Alessandro con un colpo di testa di Sartore al diciottesimo, la palla termina alto. Al ventottesimo su azione insistita i Lucani passano, cross dalla destra di Tiscione, colpo di testa di Duganzic, sfera sulla traversa ma sulla palla si piomba Sartore che ancora di testa colpisce il palo, poi la palla sbatte su un difensore e termina in rete. Sulle ali dell'entusiasmo il Matera vuole chiudere il match. Al trentaquattresimo tiro a giro di Strambelli, dal limite la sfera termina di pochissimo a lato. Un minuto più tardi il desto di Duganzic si stampa sul palo. Sulla successiva ripartenza il portiere Materano Golubovic a salvare il risultato sulla conclusione ravvicinata di Parisi. Il raddoppio lucano però non tarda ad arrivare. Il trentasettesimo quando Casoli riceve palla centralmente in fila ad Alessandro per il 2-0. Ad inizio ripresa la palla del Tris capita sui piedi di Duganzic che però cicca clamorosamente la palla a pochi passi dalla porta. La reazione del Siracusa è sterile. La squadra di Auteri gestisce il vantaggio senza correre alcun pericolo. Sino al 75esimo quando un calcio di punizione di Mancino si stampa sulla traversa. Finisce 2-0 per il Matera che torna al successo dopo oltre un mese e riprende la marcia playoff.